Ho rivisto la gara, noi abbiamo avuto un buon approccio, quello che avevo chiesto ai ragazzi. Mi è sembrato una partita in equilibrio, dove noi comunque abbiamo fatto meglio. In questo momento, per come si era messa la partita, è stato sicuramente più che positivo, perché per come l'hai recuperato diventa veramente importante, però c'è tante cose da lavorare, da migliorare. Il tifoso siamo noi che dobbiamo spingerlo dalla nostra parte. Il confronto è stato un confronto leale, nel senso che ci hanno chiesto alcune cose, ve l'ho già detto cosa ci hanno chiesto, però c'è anche, io posso dire questo, che c'è un gruppo di ragazzi che si sta fortificando, si sta unendo sempre di più. Noi siamo degli uomini e dobbiamo assumersi le nostre responsabilità, senza temere niente. Sono altre nella vita cose da temere, scusate, con tutto il rispetto. Quindi io rimango forte. Uno dice no, se non ci fosse stata in questo momento, ma non perché è una partita comunque che crea un ulteriore impegno psicofisico all'interno della squadra. Però io invece gli dico ben venga, perché comunque ci permette intanto di far giocare qualcuno che è squalificato, ci permette di inserire, ho in testa di provare a mettere dentro anche qualche ragazzo che magari non ha mai giocato. E quindi la prendiamo, la prendiamo non come una passeggiata, perché andiamo a fare una partita contro una squadra forte, anzi una delle squadre che nel campionato maggiore sta meglio. Da Silva da primo minuto ci può stare, sì, assolutamente, perché Da Silva è un ragazzo che purtroppo noi non abbiamo quasi mai allenato, perché lo sapete i problemi che ha avuto, però è un ragazzetto che è entrato molto bene, ma è un ragazzo che ha qualità.